Deve scegliere ecco Allora, lezione numero 1 Ugo Morelli Poca acqua su tutto il livello dove c'è il bulloncino Poi Quello lì Riempire Con caffè E fare la forma di cuppetiello Deve molto caffè Non con quella cosa che scegli tu Dove siamo arrivati Siamo arrivati che il cuppetiello Chiudo, in cottura, il caffè Non lo fai uscire fino al sole Perché se no esce l'acquiccio Tenersi sotto il bollo L'acquiccio è vedere gli asterischi E' pieno d'asterischi sta conversazione Comunque il bollo Il bollo deve essere tolto prima Che cazzo è il bollo? Quando fa così la E' normale che il caffè sia denso Si Deve essere bellissimo Un ottimo budino Non è forte, ora non moriamo Vedi guarda Ma è più scuro rispetto a quella brodaglia che fai tu C'ha un aspetto cattivo questo In senso di forte, non di... Guarda, guarda come esce bello scuro Sto video lo mani Vediamo su youtube Due elementi che fanno il caffè Adesso Aspetta Vediamo l'espressione E' caldo E' caldo E' buono Ti ho ragione E' fortissimo però Quindi rimane amaro Però è buono Ciao di caffè Si fa anche la pizza Guarda la cosa bella di questa C'è anche lo zoom Mi registra che io non puoi usarlo? Si Ti faccio uno zoom Vediamo un zoom Mi ricordo Mi ricordo cieco voi Mi diceva che se stai con gli occhi così Noi ci godiamo il caffè Ciao Ciao